Imperia Sviluppo, la SRL formata da imprenditori locali guidata da Gianfranco Carli, socia della Porto d'Imperia Spa, ha inviato una richiesta ad anni per 100 milioni di euro al Comune d'Imperia, anch'esso fra l'altro socio della stessa Spa del Porto Turistico. La richiesta fa riferimento alle lunghe e controverse vicende del nuovo scalo turistico del capoluogo che hanno portato al ritiro della concessione demaniale da parte del Comune alla Porto Spa e alla dichiarazione di fallimento della stessa società ancora subiudice in quanto in merito si attende da anni che si esprima la Cassazione. La richiesta ad anni è stata sottoscritta dal legale d'Imperia Sviluppo, l'avvocato imperiese Sandro Delbecchi e a dare notizia attraverso una nota è stato il sindaco Claudio Scaiola che ha affidato in carico all'avvocato Paolo Gaggero di opporsi per conto del Comune. Scaiola ha evidenziato che la decadenza della concessione demaniale decisa dall'allora dirigente del Comune Piermarilunghi al centro della richiesta ad anni è stata ratificata adattare Consiglio di Stato e pertanto i legali di Palazzo Civico giudicano la stessa richiesta dei privati assolutamente infondata. Una causa analoga era già stata intentata in precedenza dalla curatera fallimentare della Porto di Imperia Spa. Il sindaco Scaiola ha colto l'occasione per informare che sono in corso contatti risolutivi per definire le procedure di incameramento del porto e che a breve l'amministrazione porterà una nuova delibera in Consiglio Comunale per far ripartire e completare il bacino. Quella relativa al Parasio e alle modifiche alla ZTL e alla zona traffico limitato istituita nel centro storico di Porto Maurizio è stata la pratica che ha visto la maggior discussione ieri sera in occasione del Consiglio Comunale d'Imperia. La pratica denominata Viva Parasio che prevede l'apertura al traffico del centro storico Portorino dalle 19 a luna e la creazione di una serie di parcheggi in Piazza Parasio è stata approvata a maggioranza con 19 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti. Dai banchi dell'opposizione critiche sono giunte da Guido Abbo che ha giudicato la delibera nel suo complesso in modo positivo ma riferendosi alla riapertura al traffico e i parcheggi ha parlato di decisione antistorica. Sulla stessa scia il Partito Democratico ha presentato un emendamento poi respinto a maggioranza per eliminare dalla delibera tutta la parte relativa all'apertura al traffico e i parcheggi. Sempre il PD ha invece commentato positivamente la parte di delibera volta a incentivare il commercio e la ripresa del centro storico. Contrari e ritocchi alla ZTL anche Roberto Saluzzo e Gianfranco Caggero, voto favorevano la pratica da Alessandro Savioli e commenti positivi da Maria Nella Ponte, contrarie però ad aperture e parcheggi. Il sindaco Claudio Scaiola ha parlato del Parasio come di un patrimonio comune, augurandosi che grazie agli incentivi previsti giungano in comune molte domande per l'apertura di attività in quella zona. Sia Scaiola che il vice sindaco Giuseppe Fossati hanno inoltre evidenziato le difficoltà di accesso al centro storico di Porto Maurizio, motivando quindi l'apertura serale della ZTL anche come incentivo e sostegno alle attività economiche. Siamo qua riuniti questa mattina tutti gli esercenti della zona San Giovanni per trovare insieme all'assessore una soluzione che accomuna tutta la città ma purtroppo va vista zona per zona e questa è la dimostrazione. Non abbiamo il problema che questi carrabili che sono stati posati in alcuni casi sul suolo pubblico, dopo adesso i 6-7 mesi ci viene richiesto in date a scalare partenti dal 9 luglio di rimuoverli dal sito stradale e riporli in una zona privata. Zona privata che però ci viene poi telefonicamente richiesto di pagare noi. Quindi per esempio nel nostro caso senza stare a specificare perché è un caso noi abbiamo già una superficie piccola di negozio, non abbiamo la possibilità di portare i carrabili dentro per una questione di HCCP perché l'HCCP dice che prima di tutto i bidoni devono avere il pedale, ossia questi bidoni ci sono già stati dati per non avere un futuro di questo tipo, cioè di essere portati all'interno della zona cibo perché non avendo di pedale come ormai si sa noi non possiamo manovrarli, quindi devono essere per forza gestiti all'esterno. Se ci viene detto di portarli all'interno devono essere cambiati con un bidone a pedale. Seconda cosa, vado per punti, i bidoni in questa situazione comunque siamo i primi a dire che non possono stare sul sito pubblico perché richiamano sporcizia, scarafaggi, gabbiani e quindi topi e questo è dimostrabile, è già successo con notevole imbarazzo rispetto a una città che si propone come turistica. Nel caso specifico molti di noi essendo in Liguria e avendo comunque dei locali già piccoli dobbiamo quindi affittarci un'area apposta per mettere questi bidoni. Non è sinceramente logico come cosa perché noi comunque verso una differenziata che è il futuro e siamo tutti d'accordo nel volerla fare, a differenza di altri posti ci troviamo a pagare più tasse cioè noi stiamo differenziando, cioè quindi dando un servizio, riciclando e al tempo stesso paghiamo di più. In più adesso oltre alla tassa che è aumentata se non sbaglio generalmente del 25% ci troviamo anche a dover pagare un affitto. Chi non ha questa soluzione, cioè non si può permettere di pagare un affitto di un magazzino o non lo ha di proprietà, viene richiesto di mascherare. Obiettivamente non mi squilibrio però mi sembra che ogni mascheramento ci verrà indicato dove acquistare questo mascheramento che sarà un canicciato, una barriera, lo dobbiamo acquistare noi a spese nostre e allestircelo, cioè ci sembra che siamo un attimino lasciati a doverci gestire come possiamo noi ci mancano proprio le ore per lavorare, cioè non abbiamo il tempo sinceramente di fare tutto questo noi quindi chiediamo un incontro come già abbiamo appena fatto con l'assessore stiamo cercando di trovare una soluzione, vorremmo che entro le date in cui scatterebbero i verbali ci venga indicato un attimino, ci venga richiesto un ulteriore incontro per poter mediare in qualche maniera e trovare una soluzione il più possibile vicina poi alla fattibilità, ok? E non una toppa sulla toppa sulla toppa. Beh, in questa situazione adesso stiamo valutando con i commercianti di risolvere il problema dei carrellati che è la cosa più importante sia per noi che per loro, quindi stiamo valutando alcune situazioni e dopodiché secondo me troveremo la quadra per risolvere questo problema. Il comune è disponibile in tutti i sensi per poter fare in modo che i commercianti possano lavorare quindi o in una maniera o nell'altra secondo me troveremo la quadra. Abbiamo pensato di organizzare un incontro come la Coldiret incontra tutte le amministrazioni comunali del nostro fantastico territorio d'Imperia per poter presentare loro alcuni punti che noi abbiamo pensato essere fondamentali per il futuro delle nostre aziende agricole. Partiamo dalla battaglia che stiamo portando avanti sulla DOP della Taggiasca passiamo alla costituzione di un consorzio di secondo livello, un consorzio di bonifica che dia la possibilità a tutte le realtà microimprese operanti per quanto riguarda il recupero e la somministrazione della risorsa idrica piuttosto che altre imprese infrastrutturali a livello territoriale di poter essere più strutturato e poter essere più recettivo per quanto riguarda i bandi europei piuttosto che le risorse che possono arrivare dal territorio nazionale. Passando per varie iniziative sugli agriturismi, la fauna selvatica, piuttosto che le mense a chilometro zero piuttosto che il verde a chilometro zero, piuttosto che i mercati di campagna amica e anche la creazione speriamo di un primo mercato di campagna amica coperto a livello provinciale che dia la possibilità alle nostre aziende e al territorio di poter presentare le loro eccellenze che vengono coltivate ogni giorno, poterle presentare alla cittadinanza piuttosto che ai turisti che affollano proprio in questi giorni il nostro territorio. Sono terminate questa mattina le operazioni di bonifica di un carro cisterna di GPL al Parco Merci di Ventimiglia che hanno costretto al blocco della circolazione ferroviaria a partire da ieri sera. Il carro ferroviario difettoso proveniente dalla Francia è stato svuotato da una squadra specializzata di vigili del fuoco di Milano con l'ausilio dei colleghi della provincia d'Imperia. Sono intervenute anche forze dell'ordine e squadre di volontari della protezione civile per la messa in sicurezza dell'area. Seppur iniziate con qualche ritardo, le operazioni di travaso e bonifica della cisterna ferroviaria si sono svolte senza problemi e nella massima sicurezza. Nel carro erano presenti 120.000 litri di GPL che sono stati travasati mentre la parte restante della sostanza, lo stato gassoso, è stata bruciata attraverso torri di combustione appositamente montate nello scalo Merci. Tutte le operazioni sono state programmate e coordinate dalla prefettura di Imperia. Nelle ultime ore sono tornati a bruciare i boschi della provincia d'Imperia. Un rogo si è sviluppato ieri sulle alture di Bordighera, a Monte Nero, a poca distanza dal tracciato dell'autostrada dei Fiori, in una zona tristemente famosa per un altro incendio che nel 1996 costò la vita a due agenti del Corpo Forestale dello Stato, Franco Iannelli di 41 anni e Roberto Giacchino di 31 anni. Le fiamme sono state domate grazie a un intervento congiunto di vigili del fuoco, volontari della protezione civile e un elicottero del servizio regionale antincendio boschivo. Un altro rogo si è invece sviluppato alle prime ore di stamani sulle alture di Pietra Bruna costringendo le squadre antincendio a un nuovo intervento. Sostenere l'imprenditoria dei piccoli esercizi commerciali dei paesi di valle, rivitalizzando dal punto di vista economico e sociale le aree collinari e montane del nostro territorio. Questo è l'obiettivo della campagna promozionale Io compro in valle, il mio paese vivrà, rilanciata dalla Camera di Commercio di Cuneo in collaborazione con UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni-Comunità e Denti Montani. Con analoghe iniziative già promosse fin dal lontano 1996, l'ente camerale cunese ha avviato la campagna per sensibilizzare i turisti e i cittadini sulla fragilità delle attività economico-commerciali presenti nei paesi montani e rurali della provincia granda, ritenendoli un patrimonio irrinunciabile in termine di produzione di qualità, competenza, accoglienza e ospitalità. Quest'anno, con l'arrivo della stagione estiva, la Camera di Commercio ha deciso di riprendere la diffusione di tale messaggio attraverso la stampa di manifesti da porre nei comuni di montagna e dell'Altalanga e di vetrofanie da distribuire a tutti gli esercizi commerciali ubicati negli stessi territori. Riportare e mantenere nelle terre fragili, nelle terre alti, le attività imprenditoriali, commerciali, di distribuzione, artigianali, tutto quello che in qualche modo dà vita a queste nostre comunità, penso che sia un compito che aspetta non soltanto ai sistemi economici ma io penso anche alla politica. La politica prenda atto che queste terre bisogna in qualche modo aiutarle, bisogna in qualche modo sostenerle, bisogna in qualche modo agevolarle perché soltanto così si potrà riprendere un cammino virtuoso e riportare la vita in comunità che hanno fatto un po' la storia della nostra terra piemontese e non solo della nostra terra cunese. La Camera di Commercio l'aveva lanciato una decina di anni fa, a noi era piaciuto molto allora a Stagioni Alterne l'abbiamo usato e adesso ben venga a utilizzarlo insieme. Sono slogan che muovono sfide culturali enormi, cioè rivolte ai turisti, rivolte alle comunità, come torniamo a guardare i nostri territori non più come area marginale, dormitorio o luogo per caso dove andare qualche giorno quando non sappiamo cosa fare ma come luogo produttivo e non possiamo permettere che la desertificazione commerciale aggredisca nuovi comuni. San Pier Giorgio Frassati nacque a Torino il sabato santo del 1901, il padre Alfredo era senatore del Regno d'Italia e direttore del quotidiano La Stampa. I gesuiti lo invitarono ad iscriversi all'apostolato della preghiera, la prima delle associazioni religiose a cui si iscrisse nella sua breve vita. Portato a dare tutto ai poveri morì di poliomelite, forse contratta visitando gli ammalati nelle case della povera gente. Alpinista e impareggiabile animatore di feste fu un inflessibile difensore della libertà democratica contro la dittatura fascista. Membro della Federazione Universitari Cattolici Italiani venne arrestato durante il congresso della gioventù cattolica nel 1921. Laureando ingegnere morì all'improvviso il 4 luglio 1925. È simbolo della gioventù maschile cattolica, in particolare quella universitaria. Sono pronti nuovi moduli per aderire alla rottamazione terra e al saldo e stralcio delle cartelle. Si prevede che le domande di adesione possano arrivare ai 2 milioni e dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2019. Le procedure consentono di regolarizzare i propri debiti con il fisco in modo più agevolato. Le richieste tardive, cioè quelle inoltrate dopo lo scorso 30 aprile, saranno automaticamente prese in carico da Agenzia delle Entrate e Riscossione e non dovranno quindi essere ripresentate. Da gennaio 2018 a giugno 2019 l'Antitrust ha determinato sanzioni per un ammontare superiore a 1 miliardi e 277 milioni di euro. Per la tutela della concorrenza sono stati chiusi 13 procedimenti per intese, 11 per abuso di posizione dominante e 5 per concentrazione. Questo quanto dichiarato dal presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. La prima relazione annuale dell'Antitrust, inoltre, rileva che la concorrenza fiscale genere esternalità negative che a livello globale pesano per 500 miliardi di dollari l'anno, con un danno per l'Italia tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l'anno. Il cofondatore di Wikipedia, Larry Salinger, ha proposto per il 4 e il 5 luglio uno sciopero dei social a supporto della sua dichiarazione di indipendenza digitale, al cui centro c'è il desiderio di un sistema decentralizzato non più in mano a pochi soggetti e in cui ognuno sia titolare dei propri dati. Salinger scrive sul proprio sito, il 4 e il 5 luglio le persone con delle rimostranze da fare nei confronti dei social media faranno sciopero. Stiamo per flettere i nostri muscoli e domandare che le giganti e manipolative corporation ci restituiscano il controllo sui nostri dati, sulla privacy e sulle esperienze. Secondo una ricerca condotta dall'azienda specializzata in sicurezza informatica Kaspersky, gli over 55 italiani sono tra i più ferrati nelle questioni tecnologiche, pur non disdegnando un aiuto da parte dei più giovani. Il 68% degli intervistati in tutto il mondo ha dichiarato di essere in grado di installare apparecchiature elettroniche come il router o un nuovo computer, ma il dato cresce al 71% tra il campione italiano. La ricerca ha anche evidenziato un gap di genere. Le donne, infatti, faticano ancora ad avvicinarsi alle nuove tecnologie. Nonostante questo, il 41% del campione globale ammette di chiedere l'aiuto dei più giovani. La Roma ha praticamente concluso un accordo con l'Atalanta per Gianluca Mancini, difensore classe 96. Dopo settimane di trattative, le parti si sono accordate per 21 milioni di euro più 3 milioni di bonus, che dipenderanno dal raggiungimento di determinati obiettivi. L'unica cosa ancora da stabilire è la formula. Resta da decidere, infatti, se si tratta di un acquisto definitivo o di un prestito con obbligo di riscatto. Gianluigi Buffon è davvero ad un passo dal ritorno alla Juventus. Il portiere torna a vestire il bianco-nero anche se come dodicesimo, cioè dietro a Scesni. Giovedì sono previste le visite mediche. Dopo una stagione lontano da quella che è diventata la sua casa calcistica, Buffon torna a Torino. Si erano fatte avanti tante squadre al momento del mancato rinnovo con il PSG, ma il fascino della Juve, gli affetti e i vecchi amici hanno vinto su tutto e tutti. Sembrava destinato a essere il primo giocatore a fare le valigie una volta aperto il mercato. Invece, a inizio luglio, Edin Dzeko risulta a tutti gli effetti ancora un giocatore della Roma. L'attaccante bosniaco, attualmente in vacanza in Croazia, è stato convocato per le visite mediche di lunedì e il giorno successivo dovrà iniziare ad allenarsi. Dzeko si è da tempo promesso all'Inter e si aspettava che, a inizio luglio, l'intera vicenda fosse già stata risolta. Non è per niente contento e con il suo entourage sta decidendo la linea da adottare. La Roma, però, non intende fare sconti sul prezzo del cartellino. Altro round per la MotoGP, che dopo la gara di domenica scorsa ad Assen in Olanda si prepara per il Gran Premio di Germania, che si correrà sul circuito del Saxe Ring. Scalda i motori della sua Yamaha un deluso Valentino Rossi dopo la caduta sul tracciato landese. Non è un momento positivo per noi. In Olanda è stato un vero peccato, perché mi sentivo bene dopo il warm-up. Ero veloce, ma invece ho finito con un altro zero, ha dichiarato il pilota italiano. La cosa buona è che ora andiamo direttamente al Saxe Ring e possiamo lavorare immediatamente a un altro weekend di gara. Sarà importante capire se i cambiamenti apportati domenica scorsa saranno positivi anche in Germania, in questo fine settimana. Cercheremo di essere competitivi fin da venerdì, ha aggiunto Rossi. Il decisamente di umore diverso è il compagno di scuderia Maverick Vignales, che in Olanda ha ritrovato la vittoria dopo nove mesi. Mi sento come se stessi ancora sognando. Il successo è arrivato in un momento in cui avevamo perso le speranze e ci ha dato la sicurezza e la forza per continuare a lavorare intensamente.